Un circuito di gara interamente urbano e che si snoderà tra le vie del centro storico. L'ASD, Nuova Atletica Copertino, in collaborazione con FIDA, Leusacli, con il patrocinio del Comune di Copertino, della provincia di Lecce e della Regione, organizza la settima edizione della ultramaratona e staffetta denominata 6 ore Corri a Copertino. Anche quest'anno grande partecipazione ed il coinvolgimento di tutto il territorio. In queste ore la presentazione della manifestazione che prevede ancora una volta l'arrivo di tanti atleti dal Salento, dalla Puglia e non solo. Una manifestazione di promozione sportiva e sociale con la partecipazione di atleti dell'Associazione Mollare Mai and Bike Sport, degli studenti dell'Istituto Bachelet di Copertino e dell'Istituto Moccia di Nardò, che si cimenteranno nella temeraria distanza delle 6 ore e nelle staffette. Da sempre cerchiamo di coniugare sport con iniziative sociali e San Martino è un momento di socialità molto sentito nel Salento e è la prima festa natalizia se vogliamo. E allora condividerla e viverla insieme con associazioni, scuole, istituzioni e altro ci sembrava il modo più opportuno per festeggiare, per ricordare questo San Martino. Tra l'altro stiamo in una cantina sociale che rappresenta il territorio, quello di Copertino in particolare. Mi preme parlare dell'associazione che organizza questo evento, la NAC, che da anni sta lavorando benissimo sul territorio, sta lavorando molto nel sociale, sta lavorando molto con i bambini, sta lavorando molto nelle scuole. E questo è quello che il CONI veramente sta cercando, questo è quello che il CONI sta promuovendo. Grazie a tutti.